Musica Benvenuti, vediamo insieme quali sono le previsioni del tempo per domani, mercoledì 27 marzo. Inizialmente tempo migliore al centro nord, residui piogge sud e Sicilia, ma poi attenzione, subito una nuova perturbazione in arrivo da ovest con mal tempo su Sardegna, Calabria e Sicilia. Instabile al centro sud nel pomeriggio, ancora meglio al nord, con cieli in ogni caso nuvolosi. Sul mar Mediterraneo la circolazione atmosferica sarà depressionaria e di conseguenza resteranno attive sulla Campania le correnti occidentali che spingeranno masse di aria molto umide e in dubbi estese. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con schiarite parziali. Nel corso della giornata la nuvolosità tornerà ad aumentare e sarà associata a piogge più frequenti tra il pomeriggio e la sera. Temperature in aumento, venti deboli da sud ovest con tendenza a rinforzare, mare mosso molto mosso.